La prima volta nel 2014 a Nîmes in Francia, la seconda pochi giorni fa ad Ankara in Turchia. Ci sono sempre le azzurre sul gradino più alto del podio nella prova a squadre dell'arco olimpico junior femminile. C'è sempre una barlettana nel terzetto che ha conquistato il titolo mondiale in d'ordi tiro con l'arco. E Loredana Spera, ventenne talento della polisportiva Arceri del Sud, insieme a Tatiana Andreoli e Tania Giaccheri, ha battuto nella finale per loro la Cina di Taipei, decisivo allo shoot-off, proprio un dieci messo a segno dall'atleta della città della disfida per la vittoria italiana. A distanza di quattro giorni non mi rendo ancora conto di quello che è successo. È un'emozione indescrivibile anche questa volta. Diciamo che la squadra era talmente affiatata che dentro di me già sapevo che avremmo vinto. Quindi siamo state abbastanza unite e abbiamo fatto quello che dovevamo fare. A chi la vuoi dedicare questa medaglia d'oro? La dedico a me stessa e a tutti gli sforzi che ho fatto. Tutte le persone che ci sono state intorno e anche a chi è lontano perché è da settembre che non sono a casa. Quindi la dedico anche alla mia famiglia che mi ha dato la possibilità di allontanarmi da casa per raggiungere i miei obiettivi. Raggiungere il gota a livello mondiale è complicato, confermarsi probabilmente lo è ancora di più. La possiamo considerare questa la medaglia più bella della tua carriera? Sì, anche se è la prima volta non si scorda mai. Quindi hanno un peso diverso. Sono entrambe belle, però confermarsi è appunto più bello. La stagione al coperto di Loredana Spera, che ad Ancara ha conquistato anche un eccellente settimo posto a livello individuale, è già andata in archivio, ma il suo 2016 è ancora lungo e pieno di appuntamenti prestigiosi. Questo è il mio ultimo anno nella giovanile e ci sono gli europei, dove appunto due anni fa ho vinto il titolo a squadra. Però si punta anche alla senior, quindi di fare magari qualche Coppa del Mondo, qualche trasferta nella senior. Il sogno nel cassetto è quello di tutti gli atleti che svolgono attività agonistica ed è anche il suo, si chiama Olimpiade. Le possibilità per Rio sono poche, perché l'Italia ha conquistato solo una carta per il femminile, quindi la squadra per ora non è ancora qualificata e ci sarà possibilità di qualificarla a giugno e non si sa ancora chi avrà la possibilità di qualificare la squadra. Però comunque tra quattro anni ci saranno le prossime e vedremo.